Signori, signore, pensate se Superman decidesse di planare giù, scoperchiare la Casa Bianca e portarsi via il presidente dallo studio vale. Chi lo fermerebbe? Voglio una squadra di gente molto cattiva che può fare qualcosa di buono. Voi dovete essere pazzi. Beh. Questo è l'accordo. Chi disobbedisce, muore. Chi tenta la fuga, muore. Ce l'hai, ragazzo? Innervositemi o irritatemi. Io so essere molto irritante. Ti volevo solo avvertire. Morirai. Se li beccano, li buttiamo sotto un bus. Che gorsa! Giochiamo! Dai, fai di meglio da fare. Bruggalo! Già l'adoro. Uh-oh. Non buono! Mi raccomando, siamo i cattivi. Paroline dolci con me. Tutte queste chiacchiere ti faranno solo del mare. Il bambino è pronto per riuscire a farlo, e si riegalo il cielo. E la ragazza in colore è tutti i bambini. Si può riuscire con un gioco di un'esercito. Oh, yeah! Sì, è un'amplacità! È un'amplacità! Bye, bye! Vuoi vedere chi sono? Voglio vedere! Vuoi vedere chi sono? Vuoi vedere chi sei! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Sapevate che Will Smith rifiutò il ruolo di protagonista in Django Unchained, andato poi a Jimmy Fox? Motivo? Divergenze creative con Tarantino. Will voleva che il film fosse una storia d'amore e non di vendetta. Ma Will, come ti viene in mente? Quentin non era proprio d'accordo, e meno male no? Cliccate qui accanto per rimanere con me e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!